Francesco Conci, tecnico di Trento, finali giovanili Crai, under 17 maschili a Chianciano Terme, finita la prima gara contro Agnone, nel girone con Latina e Verona anche, insomma che finali saranno, che gruppo il vostro e come siete arrivati qui? Siamo arrivati qui innanzitutto vincendo il campionato provinciale nella finale che è stata disputata appena una settimana fa, il 2 giugno contro il Volano, fra l'altro non era assolutamente una qualificazione scontata, quindi quello innanzitutto era il nostro obiettivo, anche perché è un gruppo che ha avuto una stagione un po' difficile. Adesso siamo qui e l'obiettivo che ci siamo prefissati è ovviamente quello di provare a superare la prima fase, la fase di sbarramento, dove solo la prima del girone passerà la fase di qualificazione, la fase finale, insomma. Non conosciamo benissimo le altre squadre, abbiamo affrontato la prima gara un pochino alla cieca, adesso vedremo giocare Verona e Latina per capire su cosa e come preparare la partita. Che gruppo è il vostro? Il nostro è un gruppo composto più o meno a metà fra ragazzi del 98 e del 99, è un gruppo che ha del potenziale fisico, che gioca con l'assetto del doppio palleggiatore, però è un gruppo che ha avuto una stagione un pochino difficile, il nostro obiettivo è ritrovare un po' di entusiasmo che ci è mancato nell'ultimo periodo e di provare a impensierire delle squadre che sulla carta sono più quotate rispetto a noi. Mi piacerebbe vedere una squadra che abbia un'identità, che punti in modo particolare su alcuni fondamentali per cercare di impensierire squadre che soprattutto nei fondamentali di prima linea possono avere qualcosa in più di noi. Grazie.